Dharamsala, ovvero la città indiana che dal 1960 ospita in esilio il governo tibetano. In Tibet si sta compiendo un vero e proprio genocidio culturale ad opera del braccio armato cinese. Questo vuol dire che uomini, donne e bambini vengono trucidati, seviziati e uccisi a causa del loro ideale e della loro cultura che professa la non-violenza. Benvenuti a Dharamsala. Mostrami l'amore che il tuo mitra mi sa dare. Son tutto un fuoco di passione e di amore universale. Ma tu non mirare al cervello. Spara dritto al cuore così io muoio meglio. Sfrenami il segreto del tuo io superiore. Per cui la violenza inflitta è sempre giusta ed esemplare. Questo è tutto quello che sai fare. Questo è tutto quello che sai fare. Questo è tutto quello che sai fare. Spara dritto al cuore. io solo un uomo. Io sono solo un uomo. Io sono solo un uomo. Io sono solo un uomo E puoi sopprimermi in un numero di avocado di modi E puoi disperdermi in un numero di avocado di modi E suddividermi in un numero di avocado di modi E puoi sopprimermi in un numero di avocado di modi Questa è la mia pace, quella che ti è tanto cara Ne serverò il ricordo al mio ritorno ad Arenzala Occhio per occhio, tutto per niente E sputa in bocca l'arte del fiore decadente Questo è tutto quello che sai fare Questo è tutto quello che sai fare Questo è tutto quello, questo è tutto quello, quello che... Sparami conto, sparami conto Questo è tutto quello che sai fare Io sono solo un uomo 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 E puoi sopprimermi in un numero di avocadro di modi E puoi disperdermi in un numero di avocadro di modi Per poi distruggermi in un numero di avocadro di modi E suddividermi in un numero di avocadro di modi